Parliamo di tapirulan magnetico e vediamo quali sono le peculiarità del tapirulan magnetico e le grandi differenze tra un tapirulan magnetico e il tapirulan classico. Vediamo vantaggi e svantaggi di uno e dell'altro, quali sono le grandi differenze, così magari cerchiamo di aiutare chi è indeciso sull'acquisto, se comprare un tapirulan magnetico o un tapirulan classico. La prima grande differenza tra un tapirulan magnetico e un tapirulan classico è sicuramente il motore, il tapirulan classico ha il motore, mentre il tapirulan magnetico invece no, il tapirulan magnetico si muove praticamente con la forza delle gambe, quindi sei tu che fai girare il rullo, mentre nel tapirulan classico è il motore che fa girare il rullo e quindi tu mentre corri quello che fai è seguire il rullo con vantaggi e svantaggi che abbiamo già visto ampiamente in un video appunto dedicato e se non l'hai visto ti invito a vedere il link, te lo metto qua sotto in descrizione. Mentre invece con il tapirulan magnetico sei tu con la tua forza che praticamente giri il rullo e quindi già da questo vediamo che quello che si avvicina di più a quella che è l'azione naturale è sicuramente il tapirulan magnetico, che ha comunque dei limiti che vediamo poi più avanti nel video. Un'altra delle grandi differenze tra i due tapirulan è sicuramente che il tapirulan magnetico è più pratico, è più piccolo e soprattutto è pieghevole, quindi se hai poco spazio a casa oppure vuoi preservarti lo spazio, puoi praticamente metterlo via, piegarlo, metterlo via, metterlo in un angolino dopo che lo hai usato. Un'altra peculiarità del tapirulan magnetico è quella che poi spesso, e spesso alcuni modelli puoi regolare quella che è l'intensità con una sorta di pomellino, che fa presente da freno e quindi puoi aumentare quella che è la intensità e quindi praticamente ancora di più simulare quella che è l'azione poi naturale. Per simulare l'azione naturale sia con un tapirulan magnetico che col tapirulan classico ti invito, nel caso i tapirulan abbiano questa modalità, di alzare praticamente quella che è la pendenza al 2%, soprattutto nel tapirulan, quello elettrico, alzando praticamente la pendenza al 2% vedrai che praticamente aumenterai lo sforzo e anche i tuoi tempi, come abbiamo visto anche in un altro video che sul tapirulan praticamente classico si è più veloci, anche su questo video il link te lo metto in descrizione però alzando la pendenza al 2% vedrai che i tempi sono molto vicini a quelli che corri poi fuori all'aperto su strada come abbiamo detto i tapirulan magnetici sono un po' più piccoli, solitamente dei tapirulan classici solitamente un tapirulan magnetico può avere una lunghezza di 120 cm e una larghezza di 40 cm anche meno, anche 38, anche 36 cm e da questo, questo è un motivo per il quale anche, ce ne sono anche altri adesso poi te lo dico, che praticamente il tapirulan magnetico è ideale per la camminata ma direi che è abbastanza sconsigliabile per la corsa, è molto difficile correre sul tapirulan magnetico è troppo piccolo, soprattutto se sei alto, devi già avere un tapirulan un po' più grosso la lunghezza del tapirulan va anche in base alla tua altezza e quindi i tapirulan, diciamo, magnetici solitamente sono più piccoli quindi sono ideali innanzitutto solo per camminare e diciamo anche per persone un po' più va, se sei una stanga da 2 metri sul tapirulan magnetico magari fai anche un po' fatica mentre invece i tapirulan classici sono un po' più grandi, sono un po' più larghi, sono un po' più lunghi e quindi chiaramente sono più adatti, sicuramente sono adatti alla corsa anche qui il tapirulan, bisogna vedere anche che modello, perché ci sono modelli e modelli a seconda del modello aumenterà anche la potenza del motore quindi anche la velocità, dipende se vuoi andare a 5 al chilometro magari ti va bene un modello, diciamo, di quelli base se vuoi già andare a 330, 320, 3 al chilometro devi già prendere un buon tapirulan con un buon motore a livello di energie sicuramente bruci più energie con il tapirulan magnetico rispetto al tapirulan classico però come abbiamo detto appunto sul tapirulan magnetico possiamo solamente camminare mentre sul tapirulan normale possiamo anche correre quindi insomma dipende un pochettino da quello che devi fare quindi riassumendo direi che secondo me il tapirulan magnetico è ottimo se hai poco spazio in casa, se praticamente vuoi comunque allenarti magari con una bella camminata veloce che va benissimo se vuoi allenarti insomma va benissimo anche a volte una bella camminata veloce magari una bella camminata rinvigorante e quindi ti va benissimo anche il tapirulan magnetico e direi che è ottimo per chi si avvicina magari adesso allo sport vuole cominciare a correre quindi sicuramente avere un attrezzo in casa lì pronto da utilizzare è sicuramente ottimo quindi non c'hai scuse perché ce l'è lì quindi basta che lo accendi in qualsiasi stato tu si non devi neanche vestirti per andare fuori a correre puoi anche camminare in pigiama se vogliamo quindi è sicuramente adatto anche per chi inizia e sicuramente è adatto per chi vuole dimagrire quindi chi vuole muoversi e bruciare calorie sicuramente il tapirulan magnetico è sicuramente uno strumento che ti invito ad acquistare se appunto il tuo obiettivo è dimagrire e fare un po' di sport comodo a casa io quindi però se vuoi correre invece se vuoi allenarti sicuramente devi acquistare un tapirulan normale classico e più sei forte più sei veloce più il tapirulan deve essere professionale è assolutamente inutile se sei uno che magari gira i 10.000 a 3.30 che ti vai a prendere un tapirulan basico che magari ha un motore debole che non si può magari neanche inclinare sicuramente poi vai a smettere di usarlo dopo poco tempo e comunque l'invito la cosa migliore è sempre uscire andare al parco andare in strada e correre camminare e anche se c'è sia quando c'è sole come oggi che è una splendida giornata sia anche quando c'è nuvolo piove c'è neve freddo insomma usciamo vediamo di non crearci delle scuse vediamo di uscire da questa comfort zone più esci fuori più corri e cammini quando ci sono magari diciamo il classico tempo brutto quindi magari freddo pioggia neve grandine più sarai resiliente più sarai forte più nulla ti potrà mai fermare come sempre se hai qualcosa da aggiungere ti invito a scriverlo qua sotto nei commenti con questo ti saluto ti ringrazio ti abbraccio vi raccomando sempre a canna